Due coniugi di Paganica di 42 e 31 anni sono imputati per la morte di Edmond Preka, il muratore di 36 anni albanese che l'8 marzo scorso, come ricorderete, fu ritrovato morto perché aggredito da tre cani mentre tornava a piedi a casa lungo la strada di campagna dentro al ruscello. In base alla ricostruzione fatta dalla Procura della Repubblica, l'uomo fu inseguito e aggredito dai cani, tentò anche di difendersi nel tentativo di fuggire e finì nell'acqua del ruscello, perse conoscenza e morì annegato. I due coniugi per i quali il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato ai proprietari degli animali sarebbero responsabili perché in concorso tra di loro per colpa, consistente in negligenza e in prudenza, cagionarono la morte di Edmond Preka, così si legge nelle carte processuali. Dalle indagini sarebbe pure emerso come la recensione del cortile dell'abitazione della coppia a una recensione metallica che non è adeguata a trattenere gli animali dentro, tant'è vero che quel pomeriggio tre dei loro quattro cani erano usciti da un varco che si era aperto nella rete e si erano imbattuti in questo povero muratore. L'uomo era sposato con una connazionale e padre di due figli, una bimba di cinque e un bimbo di otto.